Si è riunito oggi il primo consiglio provinciale dell'Era Spina, due i punti all'ordine del giorno. Oltre all'esame della condizione degli eletti, il giuramento del presidente Francesco Spina. L'obiettivo del neopresidente, così come è stato per la precedente amministrazione, è quello di confrontarsi con tutti i comuni della BAT. Questo è stato dimostrato anche dal recente incontro con tutti i sindaci. Un dialogo, dice lo stesso presidente, che prescinde da pregiudizi di carattere politico e partilico. Ricomincia più che altro il cammino della provincia, che è la provincia che ha le stesse competenze di qualche mese fa, che ha una stessa fissionomia di prerogative istituzionali, ma che ha degli equilibri completamente diversi. Ieri sono stata l'Assemblea Nazionale del Lupi, le dinamiche politiche sottese al funzionamento della provincia cambiano completamente. Si dà centralità da una parte all'azione dei politici del territorio, degli eletti, cioè dei consiglieri provinciali. E poi alla conferenza dei sindaci, che è un altro organismo che viene introdotto in modo formale e istituzionale. Quindi per un presidente della provincia diventa già un fatto nuovo dover interagire da un punto di vista non soltanto politico, ma dal punto di vista formale, legale e istituzionale, proprio con i sindaci, con i colleghi sindaci. E poi c'è un altro aspetto importante, che i presidenti delle province italiane sono anche sindaci, sono stati dalla legge individuati proprio nei sindaci del territorio, quali soggetti legittimati a candidarsi per queste elezioni. Ragion per cui, proprio ieri parlavamo all'Assemblea Nazionale del Lupi, diventerà importante, e questa è un'azione secondo me determinante per le prospettive future delle province italiane, diventerà importante la sinergia con l'Anci. Quindi Upi e Anci potranno collaborare perché i problemi delle province, problemi di carattere economico finanziario, di funzionamento, di legittimazione anche sociale e politica, diventano i problemi dei sindaci, perché tutti i presidenti di provincia sono contemporaneamente sindaci. Quindi l'assunzione di responsabilità dei sindaci, che sono abituati a mettere la faccia, che sono quelli eletti direttamente dal popolo, sono in questo momento problemi che chiaramente diventano oggettivamente attualissimi e che diventeranno trainanti nelle dinamiche di lotta, perché sarà una vera e propria battaglia di carattere politico. Abbiamo avuto qualche ora fa qualche cenno dall'incontro di Fassino con il sottosegretario del Rio, diventerà importante la sinergia tra i presidenti delle province istituzionalmente organizzati, con l'Upi e i sindaci per far diventare quello che oggi sembra un problema afferente esclusivamente alle province, un fatto importante per tutti i cittadini italiani. I presidenti delle province hanno rinunciato alle indenità, i consiglieri provinciali, oggi introduciamo formalmente il consigliere provinciale per la prima volta, rinunciano le loro indenità, non percepiscono niente, lo fanno gratuitamente, lo fanno per passione, ma non si può accettare di trasformare questi organismi in organi di liquidazione.